E finalmente si sono alzati i veli sulla tanto attesa Giulia, la berlina che segna l'inizio di una nuova era per la marca del Biscione. La prima passerella è riservata alla versione al vertice della gamma, la Quadrifoglio, che si presenta con numeri che ha il limite dell'incredibile, potenza massima di 510 cavalli, accelerazione 0-100 in meno di 4 secondi grazie al suo V6 di biturbo, di 3 litri, abbinato, e questa è una cosa che gli appassionati attendevano da tempo immemorabile, finalmente abbinato alla trazione posteriore. Numeri straordinari, dunque, così come di assoluto valore, sono le credenziali tecniche che vi andiamo a raccontare nel numero di 4 ruote in edicola, dove trovate anche le prime immagini della nuova berlina Alfa Romeo. Grazie a tutti.